Palazzo Gardella di Arese e prospettive di riutilizzo. L'ex centro tecnico dell'Alfa Romeo è stato al centro oggi di un convegno molto partecipato nel quale sono intervenuti anche esponenti e studiosi dei Politecnici di Milano e Zurigo. L'iniziativa è stata organizzata da Prospettiva 2023, associazione presieduta da Giuseppe Augurusa, già amministratore di Arese, che da anni si batte per la tutela e il recupero di questo immobile, simbolo dell'architettura industriale italiana. Una battaglia che l'anno scorso ha portato alla posizione di un vincolo al Palazzo. Il punto è che è passato un anno dalla posizione del vincolo e nulla è successo, quindi oggi è stata l'occasione appunto non solo per rivedere questo percorso ma anche per provare a lanciare qualche suggestione e qualche allarme, nel senso che ovviamente l'accordo di programma, che è uno strumento urbanistico intercomunale, che peraltro è stato approvato proprio questa settimana, prevede finalmente la tutela di questo palazzo anche in virtù del fatto che appunto è tutelato dai beni culturali e questo è un passo avanti. Dopodiché da un anno a questa parte non c'è stata nessuna manutenzione, non sappiamo qual è lo stato del palazzo stesso. Noi ci aspettiamo che quanto scritto nel vincolo, cioè il vincolo storico relazionale che dice che ancorché la proprietà sia privata, la proprietà privata deve, in rapporto a un dialogo costruttivo con la pubblica amministrazione e noi aggiungiamo col dibattito pubblico, individuare soluzioni che in qualche modo valorizzino quel palazzo. Oggi abbiamo lanciato molte suggestioni, faremo una proposta più articolata, ma mi pare insomma di poter dire che è stata una giornata importante.